È un lavoro lungo perché le pance sono piene di slogan e di sensazionalismi e noi puntiamo i cervelli. È chiaro che è un lavoro più complesso, più lungo, richiederà tempo, ma la partecipazione e l'energia che ci stiamo mettendo, che la gente ci sta mettendo nelle piazze, è un ottimo buon primo segnale. Pensavamo di essere in 6.000, ci siamo scoperti in 15.000, adesso ci siamo scoperti in 200.000, arriveremo a mezzo milione nel giro di un mese senza aver fatto praticamente nulla. Evidentemente c'è un buon esercito di anticorpi. Cosa vi spinge? Voi cosa chiedete? Cosa vi spinge? Credo che ci fosse una grande insofferenza a cui nessuno è riuscito a dare voce in questi anni, in questi mesi. Quando prima si parlava di metterci la faccia, quando qualcuno ci ha messo la faccia, improvvisamente tutti si sono svegliati. Noi stessi a Bologna avevamo difficoltà a far uscire le persone allo scoperto e poi una volta che ci si è accorti di essere in tante migliaia è stato più facile per quelli dopo metterci la faccia, questo anche nelle altre regioni d'Italia.